Se tutti vedono biciclette significa che siamo a Ferrara. Puoi attraversare? Andiamo a vedere prima qua. Va bene. Ma guarda, che ne pensi? Perché qui è troppo silenzioso? Troppo silenzioso? Sì, in questa strada, a Ferrara è silenziosa, non c'è mozza, non c'è schiamarsi, non c'è schiamarsi. Non lo saprei dire, amore, mi sembra. Tranquilla, tranquilla. Qui semplicemente vogliono mangiare, basta. Ci sembra, no? Guardiamo, che birra, che mangiare. Belle donne. Come di solito. Certo. Ma io non vedo che mangiano. O tu vedi? No, in effetti sembra più bere. Più bere, queste forse per bere. No. Non per mangiare. E così. Diciamo che this is place, not for eat. Only. For. Bere, come si chiama in inglese? Dream. Ah, sì. Non c'è mozza, che io non sento vibe. Non c'è atmosfera. Ah, che carino. Che ne pensi? A Modena è mai piaciuto di più. Sì, c'era più atmosfera, più anche... Eh sì, più carino. Bello. È tutto green. E qui? Non so. Non dico che vorrei stare proprio qui. Mi manca atmosfera. Andiamo a vedere quell'altra stradina... Vabbè, andiamo fino a lì. Andiamo a vedere l'altro. E poi dopo torniamo indietro andiamo a vedere quell'altra stradina, quell'altra sera. Abbiamo visto anche quel ristorante orientale, mi sento. Ma questo è proprio al centro. Va bene, andiamo. Questa è un po' come il proprio medievale. E anche come si dice... E' come l'epoca scorsa. E' anche moderna. Come tutto plasticato. Come loro non vogliono fare niente. Cosa facciamo? No, torniamo indietro. Torniamo indietro? Sì, sì, andiamo a vedere i cieli. Va bene. Qui no, non vedo niente. Torniamo. E andiamo. Proprio al centro. Non so, perché anche guarda, come ti ricordi, a Modena hanno fatto lampade. Sì. Hanno fatto luce. Sì. Hanno fatto tutto, tutto carino. Anche lì c'era tutto giardino, c'era più... Ma sì, ma loro possono aggiungere un po' verde. Sì. Ma guarda, niente. Loro potrebbero fare più bello. Ecco. Il problema sai qual è, secondo me? Che loro non possono, perché qui sono case. Così tu non puoi mettere tutte le luci come tu vuoi. Ma dai. Non puoi chiedere il permesso a condomini. Ma bisogna chiedere. Ma se loro non danno, i condomini non vogliono chiamassi, perché devono dormire. Ma va bene, ma luce verde, dove tutto questo? Luce verde ti dà impossibilità per dormire. Perché questi poveretti, le finestre che abitano qua, vogliono dormire, dormire, è vero? No, no, io non sono d'accordo con te. E no, non vorrei stare qui. I don't want to stay here. I don't want. Andiamo a vedere altri postini. Andiamo a vedere. Cerchiamo qualcosa buono. La ferrara. Diciamo che... Here I don't like it. Here I don't like it. No, 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 no. No, no, no. Vediamo qualcosa che è like. Yes. E mettiamo il nostro like. Yes. Ora noi valutizziamo... Valutizzazione... Valutazione. Un po' francese. Valutazione. Zero. Zero. E' esagerata. Eh sì, eh sì. Esagerazione. Esagerazione. Eh sì. Non mi sembra lo stesso. Entriamo. Ma va bene, ti aspetto qui, vai. Allora, continuiamo. Ma vai. E' esagerata. E' esagerata. E' esagerata. E' esagerata. Ops, poops. Bici, bici, guarda, che cantissimi bici. Beh, Ferrari non si fa delle biciclette. Eh sì. Ancora, Sandy. Allora, i denti mangiano. Eh no, cocktail. Pizza cozze e babà. Tu vuoi pizza cozze e babà? Come? Tu vuoi pizza cozze e babà? Questa più è proprio la pizza Napoli, eh? Ticaccio? Quasi quasi, sì. Non mi dispiace di fare due proprie, quindi farebbe ricordare. Però prima andiamo a fare un giretto. Va bene. Andiamo avanti e se non riusciamo a trovare qualcosa noi tornilliamo. Se non trovo niente andiamo qui che c'è proprio la pizza napoletana che è quella proprio alta. Va bene. Eh, guarda che bel posto. Allora, insomma, 9 e mezza, aspettiamo un attimo, non abbiamo frattissima, fino alle 10 possiamo mangiare ancora. Vabbè, vabbè, vediamo cosa ha il centro. Allora, la canzone. Come l'allora, la residenza? Ora residenza. Allora, dopo troviamo quella stradina che tu hai voluto ricordarti. Quale stradina? Ma c'era una stradina dove c'erano tutti i ristorantini. Però forse era proprio qui in centro. No, no, abbiamo fatto. No, amore, ce n'è un'altra. No, no, no. Ce n'è un'altra ma qui in centro. No, 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 no. Ora, io non ricordo esattamente dove. Eh no, eh no. Eh sì. Ma che sì? Ce n'è un'altra. Se no, solo questa. No, no, no. Tu hai già dimenticato tutto, tutto. Ma come è possibile che io dimentico tutto? Questo non è vero. Lo dimentichi sempre, ristorantostini, inferrareschi. E guarda che lasci qualcosa. Ah, sì, certo. L'abbiamo attraversato a volte. Come? Abbiamo attraversato a volte. Tu hai dimenticato quasi tutto. Mi sembra come oggi.